bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono brutal oggi siamo su clash of clans signori stiamo andando immediatamente a togliere gli ostacoli nel villaggio e oggi andremo a fare il primo attacco del mio canale in live in war vediamo se riusciamo a raggiungere le 4000 gemme in live o mamma mia 3999 manca l'ultima gemma nel prossimo video avremo anche le 4000 gemme risparmiate in live allora signore e signori oggi andiamo a fare un attacco in war dobbiamo attaccare il numero 1 eccoci qua questo è il villaggio che dobbiamo attaccare non è niente di esagerato io l'ho trovato parecchie volte anche in farma ma non l'ho mai provato con goiva in quanto farmo con gugi andiamo prima di tutto a spendere tutti i milioni di risorse che ho andiamo a ritirare anche le risorse del castello perfetto andiamo così nel villo di modifica e andiamo a fare un po' di mura a livello 10 ne facciamo ben una e due con loro e altre due con l'elisir perfetto e così anche questa linea è completata vediamo immediatamente quante mura ci mancano per completare il tutto ci mancano ben 70 mura da portare a livello 10 non sono poche non sono nemmeno tantissime perfetto a questo punto riportiamo il villo originale impostato e andiamo a fare il primo attacco in live di questo canale in war non sono dall'iphone ovviamente sto registrando dal tablet che è samsung perché altrimenti non avrei la registrazione e purtroppo c'è un lieve ritardo tra il tocco e l'azione compiuta nel gioco diciamo che c'è un po' di ping però vabbè vedrò di toccare lo schermo un mezzo secondo prima di quello che serve e speriamo così di riuscire a completare l'attacco nel miglior modo possibile perfetto signori queste sono le truppe è un go weaver direi di provarci andiamo la tensione è palpabile scusatemi siamo partiti partiamo subito con i golem dopodiché spacca muro qui in mezzo subito andiamo dietro con i maghi i golem stanno entrando perfetto lanciamo anche gli altri maghi lanciamo le due veleno dentro i reali oddio oddio mamma mia salvati i maghi in estremis andiamo dentro con le valchirie le valchirie non fatemi scherzi ed entrate un paio purtroppo sono uscite ma poco male vedremo di riuscire lo stesso nel nostro intento lanciamo la furia dentro la seconda cura furia della regina e vediamo un po dove riusciamo ad arrivare con il resto delle truppe la vedo molto 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 dura le tre stelle sono fuori portata ma possiamo ancora fare comunque un buon attacco ok perfetto due stelle le abbiamo comunque prese per essere il numero uno non è male ci possiamo accontentare andiamo a fare più percentuale possibile ok il re ha capito che era decisamente inutile andare a spaccare quel muro purtroppo mi hanno mi stanno targettando la regina che riesce però a distruggere l'ultima difesa all'interno ok non riusciremo a fare le tre stelle ma per veramente veramente poco idea vediamo un pochino cosa riusciamo a creare purtroppo un altro mago viene targettato e adesso prima che il re entrerà nell'ultimo settore passerà ancora troppo troppo tempo vorrei aspettare ad usare la furia ma non posso più aspettare ok il re adesso sta spaccando il muro intanto il mago indebolisce anche il cannone manca l'ultima difesa e 44 secondi per finire ok le difese sono andate rimangono il re con pochissima vita un arciere una valchiria un mago e un barbaro la valchiria va a distruggere l'ultima casetta i signori sono tre stelle fatte veramente veramente a pelo ma siamo riusciti a prendere le tre stelle sul primo giocatore di questo clan avversario stiamo usando strategia meno uno in questa war mio anche l'attacco sul due è stato molto molto più semplice ma visto che abbiamo un pochino di tempo ve lo propongo lo stesso ho usato sempre go weaver è stato molto più facile come villaggio da fare sono partito in basso a sinistra con i golem per andare a stannare il castello dietro sempre i maghi ho messo malissimo purtroppo le pozioni del veleno che hanno mancato clamorosamente il drago ma purtroppo stavo giocando da tablet e come vi ho detto c'è un piccolo ritardo e pensavo che il drago sarebbe venuto un filino più avanti i maghi comunque vanno a sopprimere il drago molto 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 velocissimamente a questo punto entrano anche le valchirie il re riesce a distruggere una bomba gigante ci sono tantissime truppe che sono verso il centro del villaggio lancio la prima cura entrano quasi tutti i maghi e tutte le valchirie ovviamente il municipio viene distrutto in pochissimo tempo la furia velocizza il tutto a questo punto metto anche un assalto per dare la possibilità di entrare più velocemente nel comparto in alto alle truppe e uscire dal comparto centrale ci sono ancora tantissime truppe in vita le valchirie sono quasi ancora tutte vive stanno facendo il giro e pulendo tutto l'esterno del villaggio i maghi invece sono all'interno ancora con i reali a questo punto anche reali e maghi escono dal villaggio hanno pulito anche tutto il lato destro a questo punto stanno andando dalle ultime difese la regina distrugge l'ultima torre del mago insieme a una valchirie che distrugge quella più in basso e signori è un 100 per cento molto 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 semplice signori io a questo punto direi che vi saluto e vi ringrazio tantissimo per la visione del video se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace un commento qui da brutale tutto dalla raga